Sindaco, una mostra venatoria che è un appuntamento importante per la città di Diano Marina. Sì, direi di sì. Dobbiamo, come sempre, ringraziare Feola che è l'artefice perché lui viene, si prepara, chiede i permessi e quando le cose non vanno proprio come deve andare, ritorna e così. E poi arriviamo a questa giornata meravigliosa con gente che viene, chi è appassionato degli uccelli, chi si viene a comprare il vestiario per poter andare a caccia, chi invece si compra qualche salame buono. Insomma ci sta tutto, è una bella giornata e siamo felici di poterlo ospitare e speriamo di poter andare avanti perché gliel'ho detto Feola prenditi qualcuno che ti dia la mano perché da solo comincia a diventare dura. E proprio Feola poco fa ci ha detto che il vicepresidente della Federcaccia sarà il suo sostegno anche per le prossime manifestazioni quindi una mostra che deve continuare a Diano Marina. Sì, noi vorremmo come amministrazione, d'altra parte non è che possiamo farlo noi quindi abbiamo necessità di avere qualcuno che se ne occupi e noi spianare la strada per quello che sono i permessi, la viabilità, le cose, cioè per tutto quello che serve per poterlo organizzare. Noi ci siamo, se loro ci sono è una manifestazione che perlomeno per questi cinque anni di Chiappoli rimarrà, poi nel futuro vedremo. Che va a chiudere anche le manifestazioni estive, è anche un richiamo possiamo dire turistico. Sì, è un vero richiamo turistico ma colpisce una fetta di settore, il che è importante perché ogni manifestazione deve colpire per portare gente che qui non verrebbe comunque. La chiusura finale, non per rimarcare, la faremo con Will Festival che è un altro settore che viene qui a Diano Marina e che è la promozione di tutto quello che parla di vento e di mare per il prossimo anno. Quindi sarà veramente un altro di quegli appuntamenti importanti che Diano Marina ospita e che vorrà ospitare nel tempo. Alessandro Piana, consigliere regionale, questa mostra venatoria è giunta alla sua 62esima edizione, una mostra che deve continuare il suo cammino perché è importante sia per i tanti anni che viene organizzata e che è un appuntamento ormai consolidato per Diano Marina. Sì, hai detto bene. È una manifestazione che ha già la fortuna di avere un'amministrazione comunale molto sensibile al riguardo quindi che facilita dal punto di vista burocratico tutte quelle che sono le procedure ed ha anche un aiuto sostanziale dal punto di vista economico. È importante che anche amministrazioni importanti come quelle regionali si facciano carico di queste importanti fiere perché rappresentano appunto la storia, la cultura e la tradizione di questa regione. Anche perché legato al mondo venatorio c'è anche il mondo agroalimentare. Abbiamo qui dei banchetti di prodotti tipici del nostro territorio e del vicino Piemonte. Senza contare anche tutti i vari espositori ornitologici, quindi è importante continuare a far sì che queste manifestazioni possano perpetuare negli anni.